Il teatro canzone è il nostro primo maestro e poi non solo Gaber, sicuramente Gian Maria Testa per esempio per l'utilizzo del chitarre voce, per il suono, non ti fidare mai parla fondamentalmente di due concetti, l'uno è la carenza, l'insufficienza nei rapporti d'amore, l'incapacità che oggi notiamo sempre più pressante e l'altro concetto è quello che riguarda l'arte, l'arte vista come verità, quindi nel momento in cui c'è una difficoltà nel rapporto, se tu che sei la mia donna mi guardi mentre sto facendo la mia arte, ecco che li vedi chi sono veramente.